Thierry, per iniziare questo appuntamento. Non si può non parlare, diciamo, di quello che si svolge in Europa a livello dell'immigrazione. E di fatto vorrei ritornare sulla problematica di che cosa è l'Europa, perché si critica molto sia quello che l'Europa non fa, sia quello che l'Europa fa. Ma non si dice mai chi è l'Europa e che cosa è l'Europa. E questo è particolarmente vero a livello della problematica dell'immigrazione. Se l'Europa fosse definita come il contenuto del Trattato sull'Unione Europea, che ne precisa sia le competenze che le politiche, allora l'Europa sarebbe quella della solidarietà. Pacta sunt servanda, cioè i patti devono essere serviti, osservati, rispettati. Questo è il grande principio del diritto internazionale. Ora i patti non sono più servati. I patti europei, come i patti internazionali, come la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, che fa l'obbligo a tutti i paesi di ricevere questi rifugiati. Al momento non vengono proprio rispettati questi patti. No, assolutamente no. Quindi quello che si chiama Europa non è l'Europa dei trattati. È quella di alcuni politici che hanno deciso di riportarci nel periodo buio dei nazionalismi. È quella dei politici che dimenticano l'elezione della storia, gli antagonismi che hanno portato al disfacimento dei imperi e dell'Europa stessa. E quindi qualsiasi anno le critiche che si possono fare ai trattati europei, alle istituzioni europee, che non sono perfette lontano di questo, sarebbe tempo di ricordare ai cittadini che l'Europa è un progetto politico e che sono i politici nazionali che ne fanno quello che è adesso. I politici. Non è l'Europa per sé che deve essere criticata. Devono essere criticati i politici che non la vogliono fare, che non vogliono né rispettare i suoi principi né le sue regole. Devono essere criticati i politici che si nascondono dietro le accuse a un'Europa non può che condurre alla fine della cultura e della civiltà europea.